Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi della Corsair K68, una tastiera meccanica che potete acquistare su Amazon ad un costo di 120€ circa al momento in cui sto condividendo con voi questo video. Poi magari tra qualche tempo diventa una tastiera da 60€ e quindi poi magari mi dite nei commenti ma non costa 120€, costa 60€, questo perché è scesa di prezzo. Attualmente il prezzo è 120€ senza sconto, poi magari durante lo sconto la pagate anche meno. Come sapete Corsair è sinonimo di garanzia, quando acquistate un prodotto Corsair che sia RAM, tastiere, mouse eccetera, acquistate un prodotto destinato a durare nel tempo e rivolto principalmente al settore gaming, anche se ovviamente ci sono prodotti anche per uso lavorativo come questa tastiera che può essere usata sia per il gaming sia per la digitazione dei testi e quindi per il lavoro. La tastiera è meccanica ma ha gli switch silenziosi, non troppo ma sicuramente sono meglio del clic clac clic clac. Adesso giustamente ve li faccio sentire, mi metto sul blocco no adesso altrimenti faccio un casino. Sentite, come avete udito, praticamente è una tastiera meccanica ma molto silenziosa, quindi è veramente comoda anche alla pressione. Io ve la consiglio se dovete giocare ma anche lavorare. La tastiera come potete vedere è presente i classici tasti ma non ha i tasti delle macro che vi permettono solitamente di passare da una configurazione all'altra. Ha diciamo i tasti classici di una tastiera con tanto di tastierino numerico perché questa è una tastiera estesa, ci sono anche tastiere più compatte sempre Corsair che non hanno il tastierino numerico ma diciamo quella è più una vostra esigenza. Personalmente io non mi trovo con i numerici in alto quindi ho optato per una tastiera meccanica con il tastierino numerico. Diciamo solitamente le tastiere hanno questi tasti qui, questi per la gestione del volume o dell'illuminazione della tastiera che adesso vedremo, associati a F1, F2 eccetera. Di solito premendo FN più F1, F2 eccetera si svolgono diverse funzioni. In questo caso qua invece i tasti sono a parte. Quindi se volete magari cambiare la luminosità della tastiera modificando anche il tipo di LED potete premere questo pulsante. Come vedete potete spegnere i LED, metterli in modo che si accendono e si spengono in maniera alternata, cambiano colore e così via dicendo. Naturalmente installando il software Gorsair potete personalizzare la tastiera come preferite. La tastiera viene munita, per fortuna aggiungerei perché senza il poggiapolsi io non riesco ad usarla, è munita di un poggiapolsi. Ora, non è estremamente comodo, insomma ci sono tastiere in cui il poggiapolsi è direttamente integrato e quindi è un discorso diverso. Qui abbiamo un, lasciatemi sfuggire il termine, pezzo di plastica, però ha diciamo una buona comodità, fa il suo lavoro. Non aspettatevi una comodità eccelsa ma non è affatto male. Come vedete qui praticamente si aggancia, adesso ve lo mostro, nella parte sottostante e si può rimuovere in qualsiasi momento. Quindi una volta che voi avete posizionato la tastiera in questo modo, agganciate da sotto il poggiapolsi. Quindi se volete il poggiapolsi lo inserite, altrimenti no, quindi potete decidere voi. Personalmente io utilizzo il poggiapolsi. Poi ovviamente la tastiera ha i supporti laterali per tenerla alta. Se non la preferite così potete anche abbassarla, però quelli sono supporti che hanno tutte le tastiere. La tastiera è resistente ad acqua e polvere. Naturalmente va pulita perché non è che magari è resistente alla polvere e non si sporca. Però ha la certificazione per la resistenza. È un prodotto Corsair, quindi a 120€ che portate a casa una tastiera silenziosa, meccanica, comoda per lavorare, comoda per giocare. È una tastiera con cavo, quindi non è wireless. La collegate al computer e funziona subito. Tramite il software in dotazione, che dovete scaricare naturalmente dal sito ufficiale, potete poi personalizzare i led e quant'altro. Quindi diciamo, vi trovate di fronte un buon prodotto che io consiglio sia se scrivete molto al computer, sia se giocate. Grazie a tutti.